Via Benacense II al civico 77. Le fiamme hanno interessato un appartamento al terzo piano di proprietà di una 45enne e si sono sprigionate dalla cucina attorno alle 3.30 di questa notte. Probabilmente un cortocircuito nel forno all'origine del rogo. Tanta paura tra i residenti. La cucina è andata distrutta e si registrano danni da fumo. Paolo Conzati, amministratore del condominio, è stato il primo a dare l'allarme. Ho sentito bussare verso le 4.90 del mattino, era la mia vicina di Pianerottolo che mi allertava che c'era un incendio in corso nel suo appartamento. L'abbiamo chiamato subito i pompieri perché c'era un fumo troppo denso, non era possibile accedere all'appartamento stesso per cercare di verificare o di spegnere quello che era acceso. La proprietaria dell'appartamento è stata portata all'ospedale con l'ambulanza per accertamenti e controlli in quanto aveva respirato molto fumo. Gli abitanti del condominio non sono comunque stati evacuati. Sul posto i vigili del fuoco di Rovereto che hanno domato le fiamme ed effettuato le operazioni di bonifica. Grazie. 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 Grazie.